Prima di iniziare il pubblico della Via Crucis e poi la seconda Messa vorrei rivolgermi un pochino alle persone che ci stanno ascoltando. È un motivo particolare. Io mi trovo molto disagio a parlare alla Chiesa Unita senza avere i fedeli davanti. Quindi insieme con tutti voi che ci state ascoltando o vedendo vogliamo iniziare questa Santa Celebrazione della Via Crucis. Vogliamo pregare, innanzitutto per i defunti del coronavirus. Tanti fratelli e tante solelle sono state vittime di questo male. Vogliamo pregare per tutti gli ammalati augurando loro una pronta guarigione. Vogliamo pregare per coloro che stanno collaborando, per il personale sanitario, medici, infermieri, collaboratori. Vogliamo pregare per tutti i popoli di Dio perché sappiamo trarre anche da queste situazioni di difficoltà un motivo per rafforzare la nostra fede, rendicolirla e possiamo essere a tutti testimoni dell'amore di Dio in mezzo ai fratelli. Preghiera introduttiva nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo. Amore. Amore. Preghiamo, Signore Gesù, alla luce della Tua morte e risurrezione, ogni Tuo discepolo rimuovi la mente, trasformi il cuore, santifili la vita, seguendo i Tuoi mirabili disegni. Amen Prima stazione Gesù è condannato a morte Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Signore Dio La parola è una rai 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 Chiedendo che venisse e che ci chiedesse E le loro in grado è crescita Pilato ancora decise Che la loro inglese Fosse saluto e si vede La parola è una rai Batti su tutta la vita Scondare ogni popolo e ogni violenza E prendi la città della morte All'innocente condannato a morte Onore e gloria con la distezza dei secoli E la parola è una rai La parola è una rai Sanita Gesù è condannato a morte Sanita Gesù è condannato a morte Seconda stazione, Gesù è caricato della cruce, li adoriamo Cristo e li benediciamo, perché con la tua santa cruce è dentro il mondo. Signore Gesù, l'albero dell'alba a cruce produca obbiosi frutti di conversione. Dopo averlo scendito, lo spogliarono in manello, gli fecero ingrossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. O Padre, fa che nessuno venga schiacciato dalla cruce, ma tutti la sappiano portare con fide e con serenità, seguendo l'esempio del tuo Figlio. A San Signore che porta la cruce per lui, onore e gloria per la distezza dei secoli. Il tuo cuore è vero, il tuo predo può essere passato. Dallo spazio di un cuore, Santa Madre di cui fate, che debbiate il Signore, siamo impresse nel mio cuore. Terza stanzione, Gesù cade la prima volta Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Signore Gesù, l'argomento e l'acqua croce Produrrà copiosi frutti di conversione Si è caricato nelle nostre sofferenze Si è addossato ai nostri dolori E' stato trafitto per i nostri delitti Schiacciato per le nostre iniquità O Padre, fa che non ci siano più caduti Sui campi di battaglia, sul lavoro e sulle strade E scompaia fuori in violenza Signore, l'unicato e sofferenze Conor e gloria per la dispensa dei secoli Quanto triste e quanto affronta Dice di Dio Madre e Santo Dice di Dio Madre e Santo Dice di Dio Madre e Santo Santa Madre e Dio Madre Che le chiave del Signore Siano impresse nel Dio Madre Guarda stazione, Gesù è la Madre Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo E che coraggio saluta con il fede del mondo Signore Gesù Voi tutti che passate per la via Considerate e osservate Se c'è un dolore simile al mio dolore Madre addombrata Fa che siano risparmiate alle madre Tante sofferenze Antichio e Dio Madre Ho abitato l'onore O nore e gloria per la dispensa dei secoli De l'onore Con che stasiamo indietro Di Dio Madre Che le chiave del Signore Il figlio è l'endore Santa Madre Dio Madre E l'onore Che le chiave del Signore E l'onore Che le chiave del Signore Dato Cangellio, Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. Signore Gesù, l'armeno della Tua croce, producano curiosi frutti di conversione. Costrizzero a portare la croce in un tale di passato, un certo Simone di Cilio, che veniva dalla campagna, patrie di Alessandro e Ruso. Oh Padre, fatti si moltiplicano i Cilenei, crescono i buoni samaritani, più numerosi siano i monumentali. Al Signore è arrivato dal Cileneo, l'onore e gloria per la distessa dei secoli. Siamo in presse del tuo cuore. Siamo in presse del tuo cuore. L'apero è arrivato dal Cilio, Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. Perché con l'acqua santa con Cileneo il mondo? Signore Gesù, l'albero della Tua croce, producano curiosi frutti di conversione. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Disprezzato è raietto per uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Signore Gesù, reddici capaci di vedere il tuo volto nel volto dei sofferenti. Al Signore dal volto insegnato, comune e gloria per la distenza dei secoli. Siamo in presse del tuo cuore. Signore Gesù, l'albero della Tua croce, producano curiosi frutti di conversione. Non bisogna che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? O Padre, chi è caduto nelle tenebre dell'ingredulità, veda la luce dell'afflitto. Chi giasce sotto il peso della disperazione, acquisti fiducia. Chi è accettato dall'odio, torni ad amare il tuo cuore sui cielo. Al Signore emulmiato e sofferente, comune e gloria per la distenza dei secoli. Chi è accettato dall'ingredulità, veda la luce dell'afflitto. Siamo in presse del tuo cuore. Ottava stazione, Gesù incontra le mie donne. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Veni con la conframe e conframe nel tuo cuore. Signore Gesù, la parola della tua croce, protocca la copiose frutti di conversione. Lo segura una grande folla di uomo e di donne, che si battevano il vento e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, portandosi verso le donne, disse Figlie di Gerusalemme, non vi incide su di me, ma vi accende su voi stessi e sui vostri figli. Signore Dio, signore Dio, si faccia più viva in ogni cuore la certezza del tuo amore di padre. Signore Dio, signore Dio, si faccia più viva in ogni cuore la certezza del tuo amore di padre. e vedete il tuo figliolo, così affitto così solo. Dari ultimo di Cristo, Santa Madre di Dio e Padre, che le chiave del Signore sia con il senso di tuo cuore. Nona stanzione, Gesù cade la terza volta. Te adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la nostra santa croce hai diventato il mondo. Signore Gesù, l'arbre della tua croce, prolunga i tuoi grossi giorni di confessione. Salva mio Dio, l'acqua non giunge alla morte. A fondo del falco e non ho sostegno. Sono caduto in acqua e propone, e l'onda mi trafaccia. O Padre, faccio che non si cade in genocchi, davanti al dito e dito. Ma solo davanti a te. Al Signore umiliato e sofferenne, o more e gloria per la dispensa del secolo. Tutte morte e sofferenne, o more e gloria per la dispensa del cuore. Io lo sento a scuola di te. Santa madre, che voi fate? Che le chiave del Signore. Chiamo in presenza di tuo cuore. Decima stazione. Gesù ti ha spiegato delle vesti. E appogliamo Cristo e ti benediciamo. Perché con l'acqua santa non sei mai ne vedo il mondo. Signore Gesù, l'albero della tua cruce, lo ruga a tuve rossi frugge di conversione. Si spartirono le sue vesti, tirandole a sorte. E se tu dissi, gli facevano una pannia. Al di sopra del suo capo, possero la motivazione della sua fontana. Questi è Gesù, il Re dei Giudei. O Padre, fa che nessun uomo venga smogliato dei propri diritti e della tua dignità. Al Signore ho finito nella sua dignità con una gloria per la distinza dei segni. Fa che il uomo al vero vero, vero 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 vero. Un'ottima stazione, Gesù viene a cruci di sé. Te adoriamo Cristo e te ne diciamo. Perché vola la santa crucia ne venga il mondo. Si, Signore Gesù, l'albero della tua cruce, produrrà obbiosi frutti di conversione. Quando giunsero al luogo detto Ocranio, là crucifissero lui e i due malvattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva, Padre, perdonami, perché non sanno quello che lo fanno. O Padre, fa che il crocifisso sia portato in ogni parte della terra. Lo sia loro e lo siamo. Al crocifisso, santo e benedetto, con l'ora e gloria per la distinza dei segni. Le ferite e l'amore sul tuo corpo ha provocato. Siamo in presso Padre, Santa Padre di voi, Padre, che le chiave del Signore si abbano presso nel mio cuore. Capisce se una stazione? Gesù cuore per tutti. Te adoriamo Cristo e ti benediciamo. e che con la tua santa croce vedevi al tuo mondo. Signore Gesù, la tua vita è la tua croce per trocarlo a possibili di conversione. Era verso il risagione. Quando il sole si egressò e si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio, il velo del Tempio si sparciò in mezzo. Gesù, ridando la mia voce, disse, Padre, nelle tue mani consegno il mio spinto. Detto questo, scrivò. Signore Gesù, fa che tutti sappiano che un uomo è morto per tutti, che tu, figlio dell'Altissimo, sei il Redentore dell'umanità. Il Signore è morto per la nostra sabenza, onore e gloria per la giustezza dei tre secoli. e del ridurlo potrà finno, per scontare il tuo tempo, condivido il tuo tempo. Santa Madre, che tu, fai, che le chiave del Signore, stiamo in queste del mio cuore. che dicessimo stanzione, Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo di benediciamo. Benediciamo, la nostra santa francese, nel tuo incontro. Signore Gesù, l'albero della tua croce, produrgo a compiussi giunti di conversione. Venuto alla santa, giunge un uomo di Alimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche a lui, discevolo di Gesù. Egli andò da Milano e gli chiese il corpo di Gesù. Allora mi dà un uomo che gli fosse consegnato. O Padre, fate siano deposti dalla croce, tutti gli affamati, i torturati, gli elititi. Al Signore è deposto dalla croce, e al cuore di gloria per la dispensa del Signore. di dolore di gloria per la dispensa del Signore. E al cuore di gloria per la dispensa del Signore. Vado a compiussi giunti di Gesù. E al cuore di gloria per la dispensa del Signore. Siamo deposti dalla croce, e al cuore di gloria per la dispensa del Signore. Gesù è il sepolcro. Te adoriamo Cristo e te benediciamo, perché con la tua santa croce hai venuto il mondo. Signore Gesù, l'albero della tua croce produca proprio un segno di conversione. Nel luogo dove era stato il bucifisso vi era un giardino, e nel giardino sepolcro un luogo nel quale nessuno era stato ancora deposto. Laddunque, deposta di Gesù. O Padre, fai che tutti i defundi abbiano degna seguita e non ci siano più forze comuni. al Signore dimostra nel segno l'amore e gloria per la dispensa del Signore. O Madonna, o Gesù! Di te amo, grande dono, della eterna gloria in Cielo, Santa amate che portate, che le piappe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinticestima stanzione, Gesù risorgi dai morti a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, che la cosa fa morire dentro il mondo. Signore Gesù, la rarberta nella tua cruce produrra con piossi frutti di conversione. L'angelo disse alle loro, non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risultato, non è qui. Ecco il luogo dove l'aveva Don Agosto. Ora andate, dite ai suoi discevoli a Pedro che tu mi precede in Daniele. L'acqua vede come gli ha detto. O Padre, ti suoni su tutta la terra il festoso annuncio. Cristo Signore è risultato. Al Signore è risultato da morte. Pura e gloria per la destesà di Signore. Che il eterno avrà, il Signore è risultato da. E la giustizia, sempre a della, Grazie a tutti. 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 Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo il Signore. Venite, cantiamo il Signore, acclamiamo la voce del Signore. Accostiamoci a tutti. Per rendere grazie a tutti. Ascoltate oggi la voce del Signore. Non induite il vostro cuore. Dalla lettera di San Paolo, come avvenuta, come avvenuta, come nel giorno che passano il deserto, dove mi tentarono il vostro cuore. Mi misero alla prova, come avvenuta il vostro cuore. Dalla lettera di San Paolo. Allora, come avvenuta il vostro cuore. Allora, come avvenuta il suo cuore. Dalla lettera di San Paolo, come avvenuta il suo cuore. Dalla lettera di San Paolo, come avvenuta il suo cuore. Dalla lettera di San Paolo, come avvenuta il suo cuore. Dalla lettera di San Paolo, come avvenuta il suo cuore. del mondo. Davide l'acqua viva perché io non abbia più sentito. Il Signore sia con voi e con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te lo Signore. In quel tempo Gesù giunse a una città della Sanaria chiamata Sica, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe e suo figlio. Qui c'era il punto di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il corso. Era circa un verzo in corso. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da me. I suoi discepoli erano andati in città a fare una vista a Cicilli. Allora la donna samaritana gli dice, come mai tu, che sei giudeo, chiedi davvero a me che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, vanno apposti con i samaritani. Gesù le risponde, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bene, tu avresti chiesto ai figli e te gliel'avete dato, acqua dita. Gli dice la donna, signore, non hai un zecchio e il pulso è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci deve il pulso e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiale? Gesù le risponde, chiunque deve quest'acqua avrà di nuovo sede, ma chi verrà nell'acqua che io viverò non avrà più sede in eterno. Anzi, l'acqua che io viverò diventerà in cui una sorgente d'acqua che zandilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io l'avvio a più sede e non continui a venire in vita e a tinge l'acqua. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio su questo monte. Voi invece dite che è a Giosarelle il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui è su questo monte. Né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo. Perché la salvezza viene da Giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e in verità. Gli rispose la donna, so che deve venire un Messia chiamato Cristo. Quando Egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Ne dice Gesù. Sono io che parlo con Dio. Molti samaritani di quella città credentono di lui. E quando giungero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, e lì rimase là due giorni. Molti di più credentero per la sua parola, che alla donna diceva no. Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo dito e sappiamo che Cristo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. L'Omno è il Signore. Sono molto imbarazzato a parlare, a dire due parole, ma mi sforzano di farlo cercando di essere molto breve per dare a tutti noi, a noi sacerdoti, a voi che ci ascoltate da casa, una piccola riflessione che ci darà conforto e uto per questa settimana. Oggi la Chiesa ci sta facendo celebrare la terza domenica di Quaresima. Sapete tutti, le Chiese sono giuse, abbiamo le celebrazioni. Eccezionalmente stiamo celebrando in questo modo così strano, senza la comunità, ma ci sentiamo uniti. Questa mattina ho visto tramite internet su Facebook tante persone di un centinaio risposto all'avvento che oggi sarà promesse in contatto con noi per pregare insieme il Signore, per lo darlo, per ringraziarlo oggi è domenica, giorno Suo. E allora qual è l'invito che Gesù ci fa oggi? Gesù si incontra con la Samaritana e si incontra in un territorio strano, curioso. Gesù sta andando dalla Giudea verso la Galilea. Potrebbe fare una strada molto più breve, più scorrevole, passando nel fiume Giordano mentre sceglie una strada più lunga. Vuole fermarsi nella Samaritana. Anzi, se ascoltiamo, Giovanni ci dice usate un imperativo categorico. Gesù deve attraversare la Samaritana. Deve. Perché Gesù deve attraversare la Samaritana? Perché lì c'è un incontro particolare che lo aspetta. A mezzogiorno nel pieno della calura si ferma su un pozzo di Giacobbe e stanno dice il Vangelo e affaticato e anche se nel frattempo arriva una donna una Samaritana con la brocca ad attingere l'acqua anche qui è strano perché la Samaritana va ad attingere l'acqua al pozzo di Giacobbe a Sicari la sua città. all'interno all'interno della città ci sono due mozzi vicino a casa sua possiamo e poi lei fa 800 metri circa un chilongo per andare ad attingere l'acqua ma abbiamo potuto farla benissimo ad attingere l'acqua a casa sua vicino alcuni studiosi dicevano nel passato che la donna non ha scelto l'ora insolita a mezzogiorno non è questa l'ora in cui si attinge l'acqua si fa la mattina presto o nel tardi pomeriggio invece la donna va a mezzogiorno e va alla fonte di Sicari non è perché questa donna ha vergogna di farsi vedere come qualcuno ha detto tutti la conoscerono a Sicari sapevano che donna era non è questo il motivo è perché lì come abbiamo detto prima doveva accadere qualche cosa allora la donna arriva con la sua brocca e trova già Gesù seduto sul polso e Gesù un'altra stranezza rivolge la parola alla donna dammi davvero anche questo è strano un uomo mai avrebbe dato soprattutto un giudeo avrebbe chiesto un favore a un samaritano ancora peggio a una donna e poi Gesù si rivolge alla donna dammi davvero e di fatti la donna si accorge che Gesù fa questa domanda e si meraviglia come mai tu che sei un giudeo chiedi a me davvero una donna samaritana la meraviglia di questa donna e questa mattina dicendo il previario Sant'Agostino commentava questo brano dice Gesù con affetto con delicatezza le fa un'esultazione donna se conoscessi il dono di Dio che bella frase che bella espressione se conosci quasi qualcuno è aperto se conoscessi il dono di Dio saresti tu a chiedere davvero a me e io ti avrei dato acqua viva perdisse davanti perché c'è quell'aggettivo viva l'acqua che beveva la donna non era già viva mica era un'acqua morta un'acqua pudrida ma ci sono tante importanza a quell'aggettivo io dirò un'acqua viva se conoscessi il dono di Dio e poi ti dice dammi d'abbè tu gli avresti chiesto a me di darmi un'acqua e la donna non ha capito ancora si meraviglia come fai a darmi un'acqua non ha capito un'acqua non hai un segno il pozzo è profondo dove prendi quest'acqua Gesù risponde alla donna chiunque beve di quest'acqua avrà sebe di nuovo ma chi verrà verrà l'acqua che io gli darò non avrà più sebe di vedere anzi dice Gesù l'acqua che io gli do diventerà in lui con lei una sorgente di acqua salmellante per la vita eterna Gesù vuol dare a questa donna un'acqua ma non si accontenta dell'acqua materiale di svolgere qualcosa di più a questa donna vuole restituirle la fede darle il dono dello Spirito Santo poi la seconda parte del Pangello la donna dice quando Gesù ha svelato non l'abbiamo letto la parte più lunga della lettura che Gesù le ha rinfacciato o meglio le ha suggerito detto delicatamente tendrà a chiamare il marito e ha risposto il mio marito Gesù le risponde hai detto bene perché mi hai avuto di cinque e quello che hai adesso non è tuo marito in questo hai risposto bene allora la donna capisce e dice che Gesù è un profeta e continua ma il discorso vuole quasi portarlo su un motivo religioso dice a Gesù sappiamo che c'è differenza tra voi e noi noi diciamo di adorare Dio sono molte cari insieme quindi di che giù saremo il mio compito e bisogna adorare Gesù le risponde forse è appropriata proprio la scena verso di questa sera vedi dice la donna credi mio donna adorerebbe non si adora più né a Gerusalemme né sul Garezzino si adora Dio nel tuo cuore e spirito e verità tanti di voi stanno a casa vostra ci state seguendo non state qui in Chiesa eppure state pregando state adorando Dio non c'è bisogno di venire in Chiesa in certo in questi tra frangenti però quando ci sarà in Chiesa aperta certamente vedrete per ride e pregherete anche in Chiesa ma anche adesso si può adorare Dio nel vostro cuore e allora qual è l'insegnamento che scaturisce la mia stasera da questa parola di Dio questa donna nasce alla donna va in paese non gli importa più l'acqua era venuta per prendere l'acqua ha già ricevuto acqua dentro l'acqua della fede l'acqua dello Spirito Santo e allora la donna va dai suoi concittadini e dire guardate venite a vedere forse ho incontrato il Messia e Gesù dirà la donna si sono io il Messia non ne andranno da Gesù cittadini di Samaria samaritani e diranno alla donna dopo che hanno conosciuto Gesù l'hanno ascoltato certamente noi abbiamo creduto non solo per la tua parola ma ci siamo resi conto quindi noi personalmente abbiamo creduto che Gesù veramente è il Messia è il figlio di Dio e allora anche noi facciamo in modo di attingere col nostro battesimo l'acqua nella quale siamo stati immersi l'acqua del perdono era una stazione battesimale quella di oggi proprio quella dell'acqua della samaritana e allora attingiamo anche noi alle sorgenti della salvezza l'acqua non può soltanto quella materiale tutti ne abbiamo bisogno per vivere ma soprattutto l'acqua viva l'acqua che ci dà la vita eterna la vita dello spirito l'acqua che ci dà la salvezza l'acqua che ci dà la gioia e il paradis salutato Gesù Cristo facciamo la professione credo è un solo Dio Padre onnipotente creatore del cielo e della terra è Gesù Cristo il suo unico figlio il nostro Signore il quale fu concedito il Spirito Santo nacque da Maria Vergine patiso dopo un segnalato fu crocefisso morì fosse volto discese dall'inter il terzo giorno risuscitò la morte salve al cielo sinne alla destra di Dio Padre onnipotente di là verrà giudicare i figli e i voli credo nello Spirito Santo la Santa Chiesa di Antonica la comunione dei Santi la remissione biblicata la risurrezione del Natale la vita eterna amico fratelli e sorelle nel cammino verso la Pasqua sostriamo oggi verso il pulso dell'acqua vita te e il Signore ristorati dalla sua parola eleviamo al Madre la nostra preghiera dicendo insieme e sentaci in Madre con l'acqua del tuo figlio o Padre dona alla tua Chiesa santità e forza concedici di essere sempre tuoi fedeli adoratori di spirito e verità preghiamo distingaci in Madre con l'acqua del tuo figlio o Padre infondi in coloro che hanno compiti di governo la conoscenza delle vere necessità delle persone loro affidate preghiamo distingaci in Madre con l'acqua del tuo figlio o Padre consola chi non ha speranza e chi non ha pace mostra loro il tuo sbarco sereno e benigno preghiamo distingaci in Madre con l'acqua del tuo figlio o Padre proteggi la nostra comunità dona il desiderio di servirti e di testimoniare la gioia del tuo regno preghiamo distingaci in Madre con l'acqua del tuo spirito Padre Santo questa è la vostra preghiera donaci sempre la sede dell'acqua viva che solo il profondo può darci e rinnova in noi la gratis del battesimo per Cristo nostro Signore amén 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.